Bella a tutti ragazzi bentornati in un nuovo video di FIFA 16 e oggi siamo qui per il nostro primo pack opening ragazzi e guardate oltre agli 11 della scuola della settimana più le riserve ci sono anche quelli della tribuna ragazzi oggi nella scuola della settimana perché questi ragazzi sono tutti giocatori che sono stati impegnati con le rispettive nazionali per le qualificazioni Aero 2016 e quindi ragazzi la quantità di oro versione IF in forma sono veramente tanti quindi ragazzi oggi faremo il nostro primo pack opening di FIFA 16 e sono veramente carico perché nell'ultimo periodo di FIFA 15 non so se vi ricordavate non ne ho più fatti i pack opening quindi le vendite non si possiamo più comprare partiamo con McCarty che è il giocatore della merda niente secondo pacchetto con la casetta ragazzi insomma dicevo che non ne avevo più fatti i pack opening quindi sono molto carico l'abbiamo schippata e in volo questo è porto ragazzi e ci danno anche 1500 fetti però ragazzi ancora un nemmeno un oro non raro abbiamo trovato Embolo che è un giovane di prospettiva ma per punto serve da poco andiamo messi ancora ci insiste con gli oro non rari ma va bene che fine continuiamo con Aguero che è la versione Hero era ci insiste ancora mamma mia ragazzi c'è solo un oro là un pochetto di press che culo aspetta lo voglio andare a vedere guarda mi immagino chi sarà eeeh bruschez che mi serve anche per la mia squadra vabbè mettine in press Messi vediamo cosa ci porta schippiamo ma insiste ancora con gli oro non rari impossibile sono allo guarda eeeh eeeh ieri cicci eeeh allora capi che vabbè ieri cicci però 78 quanto vado ci sono tanti if ci sono li troverai tutti te che palle dai ancora Harry Kane questo lo schippo basta ma chi è sta merda che palle l'anno scorso prima un po' con l'incaffivo 15 avevo provato ne male ho il secondo pacchetto bravo la casetta giudicate voi due giocatori e basta poi Messi segniamo Messi via cosa non faccio l'invia e i crediti ne stanno andando a farsi potere Harry Kane per la terza volta niente voglio fare come nel Fuse Gamer ragazzi guardo guardo solo voi guardo anche se non sono un bel vedere DESTRUCTION DESTRUCTION Oddio Oddio oh 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 De Bruyne No 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 Non ci credo non ci voglio rivedere Kevin De Bruyne if No No Non ci credo Kevin De Bruyne if in prima forma di viva 16 oh mio dio oh mio dio porco e cane non ci credo Kevin De Bruyne if quanto cazzo due milioni due milioni un massimo di due milioni vale un massimo di due milioni ragazzi mio dio chi cazzo ho trovato è uno dei più forti della squadra della settimana ragazzi minimo lo metto 425 mila oh porco cane ragazzi non ci credo abbiamo ripetuto come l'anno scorso ragazzi il giocatorone al primo pack opening mio dio ragazzi mio dio ragazzi Kevin De Bruyne Kevin De Bruyne oh 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 mio dio non ci credo ebbene si no ragazzi questo è da selfie è da selfie questo lo pubblicherò lo pubblicherò dopo che pubblicherò il video ragazzi questa foto ci siamo ragazzi è venuta questa foto perché mi sembra che è venuta la merda si 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 vede è abbastanza buono oh mio dio Kevin De Bruyne oh matto oh scatto questo pacchetto per 10 ma sei matto eh ho trovato Kevin De Bruyne ma ragazzi altri pochi pacchetti e poi basta perché colpa al cuore Kevin De Bruyne oh mio dio la casetta vediamo cosa ci porti te schippiamo oh close ah quanto fa di close eh 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 oh mio dio vediamo qui questo è l'ultimo pacchetto ragazzi di Alaba perché mi voglio tenere qualche credito per fare il draft di FIFA quindi questo è l'ultimo pacchetto lo lascio aprire a voi state voi e non lo voglio nemmeno vedere Fernandez vabbè non potevo aspettarmi chissà cosa dopo aver trovato Kevin De Bruyne ragazzi è veramente spettacolare la cosa oh my god bene ragazzi possiamo dire con tranquillità che questo grandissimo primo pacchetto opening finisce qui e ci vediamo al prossimo video ragazzi bella bella